John Myers, FBI Dove mi trovo esattamente? Esistono cose che complottano nella notte Noi siamo quelli che contro complottano Chi è il pivello? Il tuo nuovo ufficiale di collegamento Andiamo a combattere un po' di mostri Per salvare il mondo Dovrà scatenare l'inferno Che tiro! Un film di Guillermo del Toro Hellboy Venerdì alle 21 e 20 Rai 4